Benvenuti nel mondo degli orologi Seven Friday. Seven Friday è un marchio di orologi svizzero fondato nel 2012 da Daniel Nidera. Il marchio si distingue per il design moderno e innovativo dei suoi orologi, che si ispirano ai vecchi orologi industriali e ai macchinari da officina. Gli orologi Seven Friday sono realizzati con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia, garantendo precisione e affidabilità grazie all'utilizzo di movimenti svizzeri di alta qualità. Il marchio offre una vasta gamma di modelli, tra cui il famoso P-Series, caratterizzato da un design unico e accattivante, che si ispira al mondo degli anni Ottanta. Ma Seven Friday non si limita alla produzione di orologi innovativi, ma si impegna anche a utilizzare materiali sostenibili e a adottare pratiche ecologiche nella produzione, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità ambientale. Un altro modello di grande successo è il M-Series, con un design minimalista ma elegante. Inoltre, Seven Friday offre una vasta gamma di accessori per personalizzare i propri orologi, permettendo ai clienti di creare il proprio orologio unico e particolare.